Ciao ragazzi bentornati in questo nuovo video, io sono Aloys, bentornati qui sul mio canale Allora, come vedete c'è qua la Renegade Reiner Natalizia, come vedete, biscottino strabello Io la volevo shoppare solo che ragazzi non posso perché i V-Bucks non vanno, Epic fa schifo Ok, e non so perché l'hanno chiamata Incursore Pan di Zenzero Va bene, Gigi, allora, come ovviamente in carico leggendario della settimana Questo che diciamo, vabbè, è questo qua come vedete, è uno con lo scar, motorino, piccone, deltaplano e questo è il dorso Molto bella sta schifo, devo shopparmi anche questo Sono qua in compagnia dell'Ale Velluti, ma adesso non siamo su telefono, quindi sulla registrazione Whatsapp Può parlare perché ha il telefono da gaming, Gigi Eh, Ale, sei contento? Bene, bene Allora, è stata una partita, io sono con Venom, lui si è già shoppato la skin, ma ragazzi Io purtroppo non posso perché vi farei vedere anche l'arma dietro, però non sono riuscito Non ce l'ho ancora da negozi oggetti da prendere, quindi non riesco a prenderla Speriamo che magari duri fino a domani, che magari domani mi si sblocca quello dei V-Bucks e riesco a prenderla E mi shoppo subito velocemente Poi anche stasera ragazzi, magari provo Eh? Eh no, però potrei fare che ti sentino Dai bot, non sapete giocare, spaccate le robe Ficchiale Guarda, poi ti fottino tutto Perbo fottere Fra qua sotto Qua sotto, qua sotto, stavo scherzando la cane Qua sotto, qua sotto, stavo Ficchiano Frata chungky no, to' addetto va, pesca e diciamo non tanto ma questo dove vive? Dove vive Zio? vabbè vive lui arrivo ah 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 morto ah io l'ho ucciso con la granata però poi riguardati il video solo carico perché veramente cioè questo qua io tiro una granata a boom l'ho detto gg io ho fatto 100 e sai quanto era distante la granata? 3000 metri quindi boom mi so come è entrato con il probabile hack pot jack potter canola pesca ciuc ho pure fatto una missione ciuc si ho ruttato buco del gnaw oh 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 buco del gnaw oh 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 buco del gnaw fra questa blu a cappa viola a cappa viola ci sta un tipo chi è quello? si c'è un tipo zio aspetta si mette a mincarlo ma porca da o qui si è quello? buco del gnaw Amiglia Assalto rimedio E anime un compagno Ozafra Altissime Fra un'altra Ho tre fiocine Adesso vedi che ne ho betonata Ok Cosa? Fra C'ho venti colpi fiocine Come hai fatto a pescare qua e lì? Fra Pesco io tranquillo C'ho le cose Fra Tieni questo Lucio sto giocando con l'Ale Di breve non evitare A capo blu Qua fra ci sono questi altri Fra E' spugnata La sedia di mida Raga 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 questo video è mitico Raga Non pensavo che uscisse quando Mentre registravo Wow Aspetta che le faccio screen Fatto Fra Gigi Gigi Ma quindi Vedi fi Ma che cavolo Pesco Eh si Magari ti da anche qualche potere utile E' Spacchiamo anche questa Non lasciamo traccia C'ho tre altre tantissime fiocine Se mi porti a pescare Dopo li prendo il flop Ok allora vabbè anche se intanto è vicino Dai fra vieni che c'ho le fiocine Vieni a portarli Cioè vieni a portarli Prendi la barca va Ah guardi Pompoblutac Fra qua c'hanno un altro di pesce grifter Vado a prendere un attimo il flopper Arrivo Che erano due Così almeno diventano tre Oh grande Devo guidare una marca Hanno fatto un'altra Fra devi andare verso di là Non hai capito niente Fra io Ma Ale ma ci sei? Ale Ale Non ti sento Ale Eh fra devi alzare Cioè non devi mettere le robe da fianco No fra Hai messo le mani Da un secondo all'altro Hai cambiato 3.000 Ecco Ma è caduta Sì la barrettina va comunque Ma se tu ci metti davanti le barche C'è Ecco vai Fa caduto E ci cuore di legno Sai cosa ci faccio Una bella casa Nel mare mediterraneo Cosa che riuscì? Un altro cieco E' il pompa blu E' il pompa blu Fra ma che cavolo mi hai baggato Ma se No Eh vabbè l'altra è andata a fare eco Sì non mi vede Perché mi stai inseguendo Guarda Fra stai facendo un casino In quella bar Dai Fra Se mi mandi sottoterra Giuro che mincavolo Tieni questo e stati buono Dei Dalliamo Grazie Vato Vato che so che sei te se ci camperiamo lì sotto cos'è? perché c'è? ma quanti colpi ha fra quella fiocina lì? sto provando ad andare stavolta mi ha cichinato un tipo non li stavo osservando mentre li fermavo un po inquietante tipo fra i sopra i punti lì sopra credo che è uno non 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 lasciala così vuoi scendere? frati sta spaccando dalla tua parte si vabbè dai no basta bravo fra gli andiamo in buco ma ha rotto fra ma ha rotto ha preso rift pure lui vieni qua fra fra dove cavolo vieni se questo lo lasero abbiamo vinto fra è qua da me non ci vuole tanto fra maremma no lo so capito vorrei capire ma se qualcuno da lontano sta facendo cadere ma è morto? si vabbè c'è scurato fra ma non capisco dove è altra che c'è chiina fra da sopra fra non devi inclinare sto charger acceso cavolo non ti qui 105 lo sapevo dove era l'altro fra uno è sulla montagna e uno qua davanti si fra fra lì andiamo lì no è abbaiato qua fra se riesci fra lì ci dovrebbe essere anche un tipo grazie cavolo se togliessi quell'albero lì te l'ho detto non stare così come un box non si spammano gli altri scusa ma si può scendere niente perso ho fatto pure un'altra missione non si non si va non si guarda 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 con una kill raga ma io mi dissocio veramente gli spamboni che ti entrano nel box con lo scar fate veramente schifo fate veramente ma veramente schifo vabbè gg gg per la partita ci vediamo in un prossimo video ho sbloccato anche un nuovo livello di sicuro e vabbè ma ragazze ma veramente ma io mi dissocio quando ti rubano il muro e spammano va bene gg per loro sono dei brutti schifosi luridi gg roba e gg roba niente scriverò nel titolo che sono spammoni come il cavolo boh vabbè gg niente ciao